Sì, è molto interessante il dibattito, ma io penso che stiamo guardando, diciamo, ciò che è avvenuto, questo piccolo scontro, perché i grandi scontri quando si fanno i governi devono ancora venire, queste sono piccole cose, ma semplicemente è ingigantito dal tema antropologico, cioè Berlusconi che ha inventato il centrodestra contemporaneo, che l'ha portato attraverso un'Italia che è cambiata subendo anche nella propria dimensione personale un attacco gigantesco in parte politico, in parte non politico, oggi si trova di fronte a scoprire che il suo successore, cioè la famosa parola impronunciabile, chi verrà dopo Silvio non l'ha scelto lui, ma in qualche modo l'aveva scelto lui, e che la politica fa quella cosa gigantesca che neanche un grande leader fa da solo, che è succedere a se stessa e mostrare al paese improvvisamente che può esistere un'altra destra, che è ancora tutta raffazzonata, tutta da capire, tutta da costruire, che Berlusconi in questa destra ha un ruolo, ma che questo ruolo non è il kingmaker del governo, e io ricordo la formazione del governo Conte II, quando Renzi in Parlamento disse, inutile che venite da me, non faccio io questo governo, cioè questo tema, Berlusconi ha sempre fatto il capo, oggi vede un capo che a lui in realtà comincia a piacere, comincia a piacere, che prende forma a sua insaputa, che sboccia dalla destra che in qualche modo lui ha inventato, l'elezione di La Russa, cioè di un uomo che viene dal movimento sociale, dalla storia della destra con cui ancora non abbiamo fatto i conti, in questo anniversario di cui tutti parlano, con queste vocazioni, con Liliana Segre che fa un gigantesco discorso, cioè tutto questo è la successione, come dire, dell'idea di destra che fino adesso abbiamo visto come unica, allora il tema sarà, Giorgia Meloni affronterà una situazione disastrosa, vediamo come lo farà, ma se Giorgia Meloni lo farà bene diventa il leader di una destra diversa, dove Berlusconi è un padre nobile, dove Berlusconi ha un ruolo di saggio, di mediatore, di uomo di enorme esperienza, ma non ha più ruolo di capo, ora siccome la parola capo e la parola Berlusconi sono state insieme per tutta la sua vita, non vedo nulla di strano nel fatto che lui si trovi a tornare in Senato dopo dieci anni in questa nemesi di quella cacciata che in Italia portò grossi problemi anche alla democrazia, da cui deriva oggi anche questo rapporto strano che c'è tra il paese e chi lo rappresenta, e invece che essere la sua festa è la festa di Giorgia Meloni, capisco che antropologicamente sia un momento difficile.